Rosalinda, Cannavo e Andrea Zenga hanno trascorso dei giorni di relax ad Osimo, dove si sono riuniti con le rispettive famiglie. La coppia ha goduto di pranzi tipici siciliani preparati dalla famiglia di Rosalinda, alternandoli a piacevoli cene al ristorante. Anche il loro cagnolino Kino ha trovato il suo angolo di tranquillità, rilassandosi in giardino sotto l'occhio vigile di Rosalinda. Questi momenti di serenità sono particolarmente preziosi per Rosalinda, che a fine agosto dovrà partire. Questo limite temporale rende il tempo trascorso con Kino ancora più importante, nonostante le forze ridotte per gestirlo al meglio. La connessione tra Rosalinda, Andrea e le loro famiglie è evidente, dimostrando l'importanza dei legami familiari e del supporto reciproco in un periodo di relax e convivialità. La permanenza ad Osimo rappresenta un'occasione per ricaricare le energie prima dei futuri impegni, in un contesto di armonia e affetto che coinvolge tutte le persone a loro care, inclusi membri a quattro zampe della famiglia. Grazie a tutti!